Se guardiamo a Marte oggi è facile pensare che si tratta di un pianeta geologicamente ormai morto. Ma in realtà, se guardiamo con attenzione, cambiamenti ci sono ancora. Per esempio ci sono grandi frane e valanghe che capitano periodicamente con il cambio delle stagioni. Ci sono geyser che si formano ancora qua e là, nelle zone dove la indire carbonica ghiacciata poi esplode lanciando tanta polvere nell'aria e lasciano scie che vengono portate via dal vento. Ci sono zone dove si formano fratture nel terreno allargate poi dopo di stagione e stagione dalla formazione di ghiaccio e le calotte paloari cambiano portando con sé vasti depositi così come si muovono ancora le dune sulla superficie erodendo la struttura, le rocce stesse e poi ci sono impatti di asteroidi che cambiano ancora la superficie. Però è un po' come, che ne so, prendere una piccola città in una zona dispersa in Italia durante l'estate poco dopo pranzo magari e dire che non è che non c'è vita perché se guardi con attenzione vedi ancora una lucertola da qualche parte, senti qualche porta scricchiolare ma allo stesso tempo oggettivamente a livello macroscopico comunque rispetto a quelle a cui siamo abituati è come se fosse una città fantasma ed è così anche con Marte. Quindi guardando la Terra è facile poi dopo guardare a Marte dire se è tutto morto, non succede niente qui. Perché è vero, cioè rispetto alla Terra non succede quasi niente. Ma una delle cose più interessanti è che troviamo su Marte tracce di un momento in cui Marte era completamente diverso era uno dei pianeti più attivi del Sistema Solare. Cioè a livello vulcanico per esempio non solo è piena di vulcani, vulcani molto grandi, ma il più grande vulcano che abbiamo mai visto nel Sistema Solare è su Marte. Olympus Mons è grande quanto tutta la Francia. Immaginatevi come dovevano essere le eruzioni di quel mostro. Così come ci sono stati movimenti tettonici così spettacolari e grossi da fratturare il pianeta stesso. C'è un canyon enorme che è il più grande canyon di tutto il Sistema Solare, Valles Marineris, che si è formato in quel periodo. Così come Marte ha avuto grandi cambiamenti per le calotte ghiacciate che si sono espanse e ritirate cambiando completamente i paesaggi. Quindi i cambiamenti in passato ci sono stati, specialmente i vulcanici. Ma la vera domanda è, ci sono ancora momenti di attività o Marte è del tutto morto da questo punto di vista? Beh, qui diventa complicato. Ma anche molto affascinante e molto interessante. E una recente pubblicazione di cui parleremo oggi ci mostra che forse, forse, potrebbe esserci ancora attività. Prima di tutto dovrei chiarire cosa intendo con recente. Perché se per esempio parliamo di un miliardo di anni fa in termini cosmologici, quindi per la storia dell'universo, di 14 miliardi di anni, un miliardo di anni è pochissimo, è praticamente ieri. Anche perché un miliardo di anni fa l'universo era come lo vediamo oggi. Quindi non ci sono stati grandi cambiamenti così in poco tempo. Mentre un miliardo di anni fa per la biologia è completamente diverso, perché un miliardo di anni fa sulla Terra non c'erano ancora forme di vita multicellulari. Quindi cambia radicalmente. Per esempio un miliardo di anni fa per gli esseri umani è incredibilmente tanto. È tanto da non riuscire a immaginare quanto è. È più o meno quanto manca l'uscita del prossimo libro di George Martin riguardo al trono di spade. Quindi quasi mai. Fondamentalmente è un periodo così lungo che non riusciamo a capacitarci. In questo caso parliamo di tempi molto diversi per tipi di attività diverse. Quindi Marte ha avuto un momento di grandissima attività circa 4-3 miliardi di anni fa, subito dopo la formazione che è avvenuta 4,5 miliardi di anni fa. E quindi appena formato il pianeta era molto attivo. Poi essendo molto più piccolo anche della Terra e degli altri pianeti, a parte Mercurio, non ha avuto molto calore con cui continuare questa attività e quindi l'attività ha continuato a diminuire. E pensiamo che già circa 3 miliardi di anni fa più o meno il grosso dell'attività si era fermata. Ma non tutta. Ha continuato e aveva momenti in cui aumentava, poi diminuiva per ancora altri 2 miliardi di anni. Quindi da allora abbiamo visto altri segni sulla superficie. I propri colati di lava che risalgono a periodi intermedi, ma sempre meno, sempre meno. Ora, in realtà non è mai smesso, cioè non c'è un punto in cui vediamo che è completamente sparita in modo uniforme. Dipende molto dal posto. C'è una zona chiamata Elysium Mons, Elysium Planitia, che è tutta la zona intorno a questo vulcano gigantesco chiamato Elysium Mons, dove vediamo segni di attività geologica anche risalenti a qualcosa come 3 milioni di anni fa. Quindi ci sono stati colati di lava sulla superficie di Marte 3 milioni di anni fa, quando c'erano ancora i primi antenati del genere uomo sulla Terra. Quindi c'erano gli australopitechi, per esempio, ancora. 3 milioni di anni fa, di nuovo, in termini biologici, è molto poco. Non è esattamente ieri, ma è questa settimana, mettiamola così. Sì, comunque è qualcosa nel range in cui i cambiamenti non sono così drastici, per cui qualcosa che influiva sul nucleo di Marte 3 milioni di anni fa potrebbe ancora essere all'opera. Quindi è molto incoraggiante, ma non abbiamo mai trovato dei segni di attività marziana molto più recenti di così. Ora è uscita una pubblicazione molto affascinante riguardo a una zona, sempre nell'anisium planitia, chiamata Cerberus Fosse, che è una zona di grandi fratture nel terreno, e in particolare c'è una frattura gigantesca di centenari di chilometri da una parte all'altra, che si estende appunto in questa zona vulcanica, e intorno ci sono depositi di genere piroclastica. O almeno questo è quello che sembra dallo spazio, perché abbiamo trovato dei composti ricchi di pirossene a base di calcio, che sono quelli che troviamo appunto nelle nubi piroclastiche che vediamo dei vulcani sulla Terra. Per cui se avete presente un'eruzione gigantesca con tutta quella polvere e gas che fuoriesce dal vulcano e che poi dopo crea queste valanghe e nubi che si sedimentano tutto intorno, ecco, molti di quei depositi contengono questo tipo di pirossene e ne abbiamo trovato anche su Marte. E quindi tutta la colata intorno, tutte le tracce intorno a questa frattura sembrano di quel tipo. Ora, la chiave successiva è stata capire a quando risalgono. E per riuscire a fare questo abbiamo studiato la superficie molto in dettaglio per vedere se ci sono altri crateri o altre fratture che possiamo datare. Quindi un primo lavoro è stato fatto sulla datazione dei singoli crateri. E questo ci ha permesso di avere un'idea di base di quando è stata depositata l'ultima colata di lava. Dopodiché abbiamo visto come sono cambiati i depositi intorno e abbiamo stimato che la parte più recente di questi depositi, quella che vediamo appunto piena di pirossene, è risalente a circa 50.000 anni fa. Che, di nuovo, è pochissimo in termini geologici, è pochissimo in termini biologici. Cioè, ne Homo sapiens sulla Terra 50.000 anni fa. Abbiamo manufatti, abbiamo cose scolpite da esseri umani, abbiamo arte risalente a più o meno quell'epoca. Quindi è pochissimo in termini biologici ed è incredibilmente poco in termini geologici. Quindi qualcosa che è successo solo 50.000 anni fa potrebbe ancora essere presente. Quindi Marte potrebbe ancora avere eruzioni vulcaniche. Noi, da quando studiamo Marte, non abbiamo mai visto attività vulcanica. Però, d'altra parte, noi la studiamo da pochi decenni. Per cui può tranquillamente essere che sono episodi che capitano due o tre volte ogni 100.000 anni e potremmo tranquillamente perderci in quel caso. Ma anche se capitasse una volta ogni 1.000 anni, sarebbe pochissimo in termini geologici, ma per noi sarebbe tantissimo. E quindi ci sta che ce lo siamo persi. Però abbiamo un altro trucco per capire se c'è attività. Non c'è bisogno di aspettare che ci sia un'eruzione, basta capire cosa si smuove sotto la superficie. E a questo ci viene incontro una missione spaziale che abbiamo lanciato qualche anno fa chiamata InSight, che si trova a circa 1.600 km da Cerberus Fosse e una volta sulla superficie ha un sismografo che ascolta come un orecchio alla ricerca di terremoti marziani. I terremoti si formano grazie a tanti motivi diversi. Possono esserci impatti di asteroidi sulla superficie, possono essere movimenti di marea dovuti alle lune di Marte, oppure può essere attività volcanica. Quindi grazie a questo sismografo possiamo dedurre se c'è attività e dalla sua posizione ha trovato due terremoti che provengono da questa zona che è un segno incoraggiante. Ora, purtroppo c'era un'altra parte della missione che poteva aiutarci tanto che era una talpa che doveva scavare fino a 5 metri di profondità per rilevare il calore interno del pianeta e purtroppo è falita. Non è riuscita a scavare perché il terreno marziano in questa zona dove è atterrata la sonda non somiglia a nessun altro terreno che abbiamo mai visto su Marte, quindi ci ha fregati la talpa. Non è riuscita purtroppo a scavare e quindi non abbiamo dati del calore interno di Marte per sapere quanto a magma c'è, a che profondità, eccetera. Però è comunque incoraggiante, quindi è se non altro un buon modo per ipotizzare una missione futura in questa zona. Potremmo mandare un lander, potremmo mandare magari un elicottero come ingenuity che può arrivare da una parte e può saltare dall'altra e dall'altra e esaminare tutta la zona intorno. Anche perché pensate quanto sarebbe affascinante studiare i depositi all'interno della frattura e al momento non c'è alcun tipo di missione che può scendere in quella frattura. Mentre con una sonda del genere potremmo con un elicottero scendere sui bordi e guardare tutto intorno e esaminare dalla distanza, magari con un laser, vaporizzare parte della roccia e guardare i gas che foriascono per analizzare di cosa sono composti. Potreste avere analisi spettroscopiche, quindi sulla composizione delle rocce direttamente in volo all'interno di queste fratture che è wow, è meraviglioso. Sono troppo felice di essere vivo in un momento in cui questo è anche soltanto possibile. Ora, detto questo, è certo quindi che l'attività risale 50.000 anni fa? Beh, no. Appunto, sarebbe stato bello avere anche altre prove successive, ma comunque un grosso indizio a favore. Quindi, diciamo, gli indizi che si accumulano puntano nella direzione di attività ancora presenti su Marte. Il motivo per cui è così interessante, al di là delle rocce e l'attività, è anche astrobiologico, perché se ci sono zone dove c'è ancora magma nel sottosuolo di Marte potrebbero esserci zone ancora calde e magari se ci sono depositi di ghiaccio potrebbero essere riscaldati e sciolti da qualche parte in profondità sulla superficie di Marte. Quindi, chi lo sa, sotto uno di queste fratture o nelle vicinanze di qualche vulcano magma potrebbe tenere abbastanza caldo il terreno da formare laghi sotterranei dove potrebbe esserci vita. Quindi alcuni dei posti migliori per cercare vita potrebbero essere in queste zone. La pubblicazione scientifica la trovate come sempre sotto. Si chiama Evidence for Geological Recent Explosions Explosive Volcanism in Elysium Planitia e gli autori sono David Harvath scusatemi, della Planetary Science Institute e un sacco di altri che trovate nella pubblicazione su Icarus. Icarus è una pubblicazione, è una rivista scientifica che raccoglie tutte queste pubblicazioni a tema spaziale in questo caso è astronomico. Ok, questo è quanto. Spero che presto avremo aggiornamenti. Sarebbe bellissimo avere qualche altro terremoto in più da InSight per sapere qualcosa di più di questa zona ma la teremo d'occhio. Nel frattempo ci vediamo presto con un altro video. Continuate a essere persone meravigliose, vi striterò fortissimo e se volete sostenere il canale vi ricordo che sotto trovate il link a Patreon dove potete non solo avere cose per voi a casa, vi arrivano cose tra le manine incluse patch, magliette eccetera ma oltre a questo potete avere anche il cuore a posto perché avete sostenuto questo canale e sì, potrete vedere un sacco di video nuovi in più. Vi abbraccio forte, a presto! Eccoci arrivati nella Endcard dove vi racconto qualche altro anedito in più extra per quelli di voi particolarmente curiosi. Qualche anno fa, se vi ricordate, si parlava di una nube lunghissima che si era formata intorno a un vulcano su Marte, Arsia Mons e su internet tutti dicevano che si trattava di un'eruzione perché se guardato dallo spazio era proprio simile cioè si vedeva proprio questa nube che sembrava fuoriuscire proprio dalla cima del vulcano in realtà si forma per via del paesaggio cioè per la conformazione del paesaggio stesso il vapore nell'atmosfera e l'andere carbonica si ghiacciano formano queste nuvole che scendono poi dopo rotolano praticamente sulle pendici intorno al vulcano quindi si formano lì quasi tutte le stagioni nasce, cresce ma proprio abbiamo foto anche da una sonda indiana chiamata Mars Orbiter Mission in cui si vede proprio l'ombra sotto e il distacco e il fatto che se vista da vicino non c'entra con la punta del vulcano oltre a questo abbiamo camere nei infrarossi intorno a Marte sappiamo che non c'è attività di questo tipo perché le camere infrarossi percepiscono il calore e quindi avremmo trovato un picco di una zona molto calda intorno alla cima di quel vulcano se ci fosse stata un'eruzione invece no, tutto freddo freddissimo non c'è nessuna eruzione però se non altro le foto erano incredibilmente belle ok, per il resto altro aneddoto che volevo raccontarvi presto vi aggiorno anche su riguarda Ingenuity che continua a fare i suoi voli non vedo l'ora di sapere quali saranno le prossime missioni che vedremo volare su altri mondi una di queste si chiama Dragonfly ed è in fase di costruzione ora potete trovare un piccolo video introduttivo che avevo fatto tempo fa quando fu selezionato come missione vi lascio magari tutto in descrizione se no cercate su YouTube Dragonfly Link for Universe e si tratta di una missione con 8 eliche nucleare che manderemo su Titano la più grande delle lune di Saturno e volerà da una parte all'altra di Titano sopra laghi di metano liquido con Saturno in alto nel cielo sarà una cosa bellissima per cui mi raccomando fate attività fisica mantenetevi in forma perché ci sono un sacco di cose spaziali da seguire nei prossimi decenni un abbraccio ancora sotto vi ricordo che trovate anche il link per Patreon ma anche il link per il sito di Pampling dove potete comprare magliette per sostenere il canale e avete anche 20% di sconto con il codice ADRIANL4U un abbraccio ancora forte ci vediamo presto grazie a tutti grazie a tutti